La procedura ancora in fase di studio di impatto ambientale è stata avviata e funzionari del Ministero della Transizione Ecologica ad inizio dicembre hanno preso in carico l'ITER, la società Apollo Wind SRL, avanzato richiesta per un parco eolico offshore su un tratto del Golfo di Gera, interessando aree del territorio della provincia ragusana. Non sono disponibili dati ulteriori, ma il progetto prevede un parco da 384 MW, l'area individuata è collocata nel settore sud della zona marina C del canale di Sicilia. L'avvio dell'istruttoria risale proprio ai primi giorni al mese di dicembre, gli accertamenti saranno compiuti dagli uffici romani che si occupano di valutazioni e autorizzazioni ambientali. Al momento non ci sono altri dati che possano riguardare il progetto presentato dalla Apollo Wind SRL. Già nel recente passato ci fu una lunga procedura per la realizzazione di un parco eolico offshore lungo un tratto della costa locale. In quel caso venne individuata l'area ridosso dei comuni di Licata, Butera e Gela. Dopo lunghe controversie, anche giudiziarie, il progetto non andò avanti anche se c'era stato il rilascio delle autorizzazioni più importanti che avrebbero potuto sancire uno sviluppo effettivo del parco eolico. Le associazioni a tutela dell'area, fortemente esposta, avviarono una mobilitazione arrivando fino alle autorità europee, di fatto stoppando le procedure. Furono accertate delle conclusioni procedurali non in linea con la normativa di tutela, soprattutto ambientale. Al Ministero ora è stata presentata la richiesta per tentare di sviluppare un nuovo impianto offshore. Del resto l'area locale è spesso stata individuata da aziende del settore proprio per tentare di avviare investimenti in questo comparto.